Ok, questa cosa avete appena visto è un doppiaggio simil-sync o voiceover in inglese realizzato interamente utilizzando l'intelligenza artificiale. Non solo, non è stato realizzato utilizzando una voce qualsiasi, ma clonando la voce del protagonista di questo video, vale a dire Marco, il mio amico. Come si fa? Lo vediamo insieme in questo video. Sono Paolo Bacchi, sono un filmmaker e storyteller. Nel 2003 ho girato e montato il mio primo video e da quel giorno non ho più smesso di raccontare attraverso le immagini. In questo canale vi parlo del mio percorso, della mia esperienza e di quello che negli anni ho imparato e continuo a imparare come filmmaker indipendente. Allora, ovviamente il titolo del video è un po' una provocazione, anzi io per primo da quando ero bambino ho sempre voluto fare il doppiatore, quindi l'unica cosa a cui ero interessato, a cui sono interessato è testare se questo workflow di lavoro è fattibile e può rendere appunto un video credibile nonostante non ci sia dietro una figura umana. Allora, cominciamo. La prima cosa che ho fatto è stato estrapolare il testo del voiceover in italiano. Questo è il video in italiano. Non riusciamo a trovare quel giorno sul calendario per uscire dalla nostra routine, invece è proprio quello il giorno dove iniziamo a crescere. Una volta che ho esportato il video finito, ho estrapolato i sottotitoli. Se volete provare questa cosa, il modo più semplice sicuramente è caricare il video su YouTube, magari lo lasciate in privato o quantomeno non in elenco, aspettate un attimo che vengono generati i sottotitoli e poi lo andate a scaricare. Come? Andando... Lo studio dell'Oxford University. È il video in italiano, clicco su tre puntini, vado su mostra trascrizione ed eccola qua. Io sostanzialmente posso prendere e copiare tutta la trascrizione. La cosa importante è andare su questi altri tre puntini e fare attiva-disattiva timestamp, perché in questo modo almeno prenderemo solamente il testo di tutto il parlato senza i numerini del timestamp. Me la copio. Una volta che ho copiato la trascrizione in italiano me la vado un attimo a mettere su un nuovo file di testo e la cosa importante è andarla a rifinire, perché ovviamente la trascrizione non è sempre perfetta, anche se è abbastanza accurata. Quindi rileggo tutto il testo, lo correggo nelle imperfezioni, tipo che ne so, qui musica non mi interessa, vado a togliere le imperfezioni o le cose che sono state trascritte male. C'è tipo qui c'è scritto Basecatore e invece è Basecamp. Vado a fare tutte queste correzioni e una volta fatte queste correzioni vado su DeepL, che è un traduttore tipo Google Translate, ma mi dicono più accurato. Io lo sto testando adesso, credo che dietro ci sia anche qui l'intelligenza artificiale, mi ci trovo molto bene. E quindi una volta che ho sistemato il testo lo vado ad incollare qua. E ovviamente seleziono la lingua di partenza in italiano e la lingua di destinazione in inglese. Una volta che mi è stata restituita la traduzione in inglese, torno su questo documento, rincollo la traduzione in inglese e sostanzialmente che cosa faccio? Vado a analizzare anche qui come è stata realizzata questa traduzione, perché anche qui non è sempre perfetta. È una buona base di partenza, ma magari certe cose, anche se sono state tradotte letteralmente, magari non si dicono in slang oppure non sono comprensibili, non sarebbero comprensibili per esempio da un madrelingua perché ti dice no, questa cosa non si dice così, si dice in quest'altro modo. Quindi un minimo di review, un minimo di passaggio di interazione umana è sicuramente importante. Io per fare prima ovviamente mi sono portato avanti e ho già preparato una versione già corretta, rifinita e quantomeno credibile all'orecchio di un madrelingua. Qual è il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio è quello di Eleven Labs. Allora questo è Eleven Labs, vale a dire il portale credo più famoso per quello che riguarda text to speech, vale a dire la creazione di un voiceover, di un audio parlato partendo da un testo. Si possono fare già diversi test andando a scrivere appunto un testo qui, possiamo sentire degli audio in inglese. L'inglese sicuramente è quello sviluppato meglio, mentre le altre lingue sono ancora un po' da perfezionare. Che tu creda di potercela fare o di non potercela fare, hai ragione. Cioè comunque fa impressione, partiamo da sto punto, ok? Allora innanzitutto prima di entrare nel programma vediamo il pricing. Ovviamente questo è il piano gratis, il piano free, che vi consente di fare già dei primi test. Poi abbiamo il piano da 5 euro, che è quello che ho cominciato ad utilizzare io, però poi mi sono finito tutti i 30.000 caratteri a disposizione. E poi alla fine sono dovuto passare al piano da 22 euro al mese, che consente di avere fino a 100.000 caratteri. Io me li sono già praticamente polverizzati perché sono un nerdo, ho fatto un sacco di test. Ok, però voi già per fare i primi test non avete bisogno di pagare, potete anche utilizzare il piano free. O comunque sia, per fare un test 5 euro al mese, insomma. 30.000 caratteri sono più che sufficienti. Allora andando su Voice Library praticamente potremmo testare, potremmo ascoltare in anteprima diverse voci. Bruce, Deep American Narrator Voice. To exist is to change. To change is to mature. Ma è la madonna. Indian Male Young. We must embrace pain and burn it as fuel for our journey. Respe Deep British. If you surrender to the wind, you can ride it. Indian Man. I believe that we are fun. Kindness is more important than wisdom. If you don't know where you are going, It is not enough to have a good mind. Ok, queste sono tutte voci pronte e disponibili da poter utilizzare con il testo che noi forniamo. Mettiamo a disposizione della piattaforma. Quello che però è la cosa più figa è questo. Voice Lab. Andiamo qua e facciamo Add Generative or Cloned Voice. E poi andiamo su Instant Voice Cloning. La cosa importante è che il file che viene fuori non deve occupare più di 10 MB. Allora, io mi ero preparato qui già l'export di questo voiceover. Eccolo qua. E lo vado a caricare. Come vedete occupa 9 MB. Poi sostanzialmente qui il Level Lab ci chiede Ce l'hai l'autorizzazione per clonare questa voce? Più o meno questo è il senso. E dico, sì certo ce l'ho, me la dà la Marco. Ok. Add Voice. E in questo momento lui sta praticamente caricando e analizzando la voce. È tutto abbastanza immediato. Si tratta di pochi secondi. Eccolo qua. Marco Voice Test. Proviamo. Ok. Una volta che ho sentito che la voce più o meno va bene, ok? Questa è la voce di Marco Clonata. Vado ad inserire il resto del testo. E questo è il risultato. Come vedete, diciamo, possono esserci degli sbalzi di interpretazione ma questi possono essere aggiustati attraverso dei parametri che possono essere impostati qui tramite Voice Settings. Allora, vado a ripristinare i parametri di default 75 e 75. Che cosa abbiamo qui? Prima cosa è la stabilità. La seconda cosa che abbiamo è la chiarezza e l'aumento di somiglianza, ok? Adesso cancello un attimo il testo momentaneamente per farvi sentire un po' come questo va ad influenzare l'interpretazione. Quindi facciamo Generate con questi parametri. Stabilità, 75. Un studi di Oxford dice che spendiamo 30 giorni al anno in luci. Questo significa che spendiamo la maggior parte delle nostre vidi in quattro ponte. e il problema è proprio lì. Non possiamo trovare il giorno sul calendario per uscire la nostra routine. Ok, che cosa succede se io vado a cambiare la stabilità? La portiamo all'estremo, la portiamo tipo a 5, mentre manteniamo, anzi portiamo la chiarezza a 100. Sentiamo come va a cambiare. Ok, è iperrealistico a tal punto che sembra veramente forse una persona, non so, con dei problemi, ok? Super emotiva, poco stabile, ok? Sicuramente nell'interpretazione e nella voce. Quindi l'andiamo ad aumentare e la portiamo, per esempio, a 25. Proviamo. Ok, molto meglio, molto più credibile, sicuramente già è funzionante per quello che mi riguarda, però vorrevo farvi vedere alcune cose. Allora, an Oxford University study says we spend 30 days a year outdoors. Qui ci mettiamo un punto esclamativo. Pondiamo a capo, mettiamo la maiuscola. That means we spend most of our lives within four walls. E ci mettiamo due punti esclamativi. And the problem is right there. Proviamo a mettere anche dei puntini all'inizio di questa frase. Sentiamo quello che avviene fuori, magari un macello. Passiamo anche la stabilità. An Oxford University study says we spend 30 days a year outdoors. That means we spend most of our lives within four walls. Ok, sta calmo, sta calmo, sta calmo, calmo. Ritorniamo un po' su con la stabilità. 35. Ok. Ok, proviamo un altro parametro. Mettiamo dei puntini di sospensione appena dopo la parola spend. E qui mettiamo due punti esclamativi. An Oxford University study says we spend 30 days a year outdoors. That means we spend most of our lives within. Ok, forse un punto esclamativo in meno. That means that we spend most of our... È incredibile come i puntini o i puntini in sospensione e i punti esclamativi influenzano l'interpretazione dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale. Continuo ad andare avanti con un po' di tentativi. Ok, una volta che abbiamo trovato la nostra formula, che siamo andati a regolare la voce, abbiamo dato in pasto la voce originale della persona che parla. Poi abbiamo regolato la stabilità, poi abbiamo regolato l'aumento della somiglianza e la chiarezza. Insomma, abbiamo fatto, abbiamo giocato un po' con questi parametri. Quando siamo soddisfatti, possiamo scaricare il file. Il consiglio che vi do io è ci abbiamo a disposizione dei credit. Quindi ogni volta che fate generate, sostanzialmente qui sapete già quanti caratteri andate a consumare. Quello che vi dico io è testate delle frasi brevi, anche brevissime, perché ovviamente meno caratteri mettete per test e meno andrete a spendere. Quando avete trovato la formula giusta, allora potete cominciare a testare il testo più lungo. I puntini di sospensione possono influenzare la parola sia se attaccati, da questo da quello che ho visto, non ho delle istruzioni precise, questo diciamo condivido la mia esperienza, sia se i puntini di sospensione sono attaccati alla parola precedente, sia se i puntini di sospensione sono attaccati alla parola successiva. Allo stesso modo i punti esclamativi influenzano l'espressività della voce, anche ovviamente i punti interrogativi, e anche il doppio punto esclamativo, il doppio punto interrogativo e quant'altro. Una volta che avete trovato la giusta somiglianza, cioè la giusta interpretazione che per voi va bene, potete scaricare la voce clonata della persona in questione. Se non va bene, se non vi soddisfa, potete comunque trovare un sacco di voci da testare su questo modello. Ad esempio, questa è la voce di Marco clonata, ok? Ma io posso anche andare a prendere American Narrator. Eccolo qua. Diminuisco un po' la stabilità. Faccio una prova, butto via 1.298 crediti. Comunque, la fase successiva è lo scaricamento del file. Quindi da questa barra qua sotto, vedete, c'è questo simboletto, scarica, la chiamerò Marco. La prossima cosa che farò sarà andare a prendere la voce che ho appena scaricato da Eleven Labs e la vado a mettere qua sulla timeline. Chiudo la traccia della voce originale e me la vado a sistemare, ok? Ok, qui c'è tipo una pausa. Quindi posso fare questo. Vabbè, sostanzialmente vado a fare tutti questi lavoretti di fine tuning per sistemare la voce, insomma, diciamo in maniera più verosimile possibile rispetto a quella che è l'interpretazione del video originale. Nel video originale dove compare Marco. Vabbè, taglio corto. Questo è il risultato finale. An Oxford University study says we spend 30 days a year outdoors. That means we spend most of our lives within four walls. And the problem is right there. We can't find that day on the calendar to get out of our routine. Instead, that's really the day where we start growing. Often the people who come to visit us are amazed about the smell of the forest or of the sound of the wind. That's it. All the things they haven't heard in years. However, I understand that. In the end, you can't experience these things even in the coolest public park in the world. So many people think that getting out of their comfort zone means doing super extreme stuff. Instead, for us, it's just getting out of their everyday and having fun in amazing places. I mean, in the end, what's Basecamp? Basecamp is an ecosystem where people gather together from all over the world. clearly also from Italy. And it aims to rediscover themselves in a sustainable way that you know for us is mantra that just outside the comfort zone, you are just fine. Here, in the Marker region, we have a mega lab where they can really touch on how important it is to disconnect and connect with nature. We understand this when they come along and say Marco, we'll be back. or we should have come earlier. Well, for this video is all about it. and we'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. We'll see you in the next video. See you in the next video. Grazie a tutti.